In molti l'aspettavano, la tensione stava salendo, in troppi volevano sapere, No comment, no comment, non mi fanno neanche avvicinare alla porta. Il mondo dell'informazione ne sarebbe stato sconvolto. Il mondo dell'informazione ne sarebbe stato sconvolto. Il mondo dell'informazione ne sarebbe stato sconvolto. Dobbiamo fermarli. Ormai è troppo tardi. Ora il grande momento è arrivato. Nessuno li potrà fermare. È fatta. A presto. A presto. A presto.